scuole superiori i presidi organizzano il rientro in presenza degli studenti weekend in arancione per le marche carloni apre ad un rapido rientro in tona gialla covid 91 nuovi casi a pesaro terminato lo screening a vale foglia lo sport non si fermano le attività della società bisauro nuoto una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con rossini news il telegiornale di rossini tv subito in apertura in questa edizione parliamo delle scuole superiori che stanno ultimando l'organizzazione per tornare ad accogliere da questo lunedì una parte degli studenti in presenza diverse sono state le scelte dei dirigenti del territorio sulla composizione delle classi come vediamo in questo primo servizio è iniziato il conto alla rovescia per il rientro in classe dei ragazzi delle scuole superiori pesaresi previsto per il prossimo lunedì la composizione delle aule però presenta delle differenze alcuni istituti tra cui l'agrario cecchi e lo scientifico marconi a seguito della forte raccomandazione giunta dalla regione marche hanno optato per la presenza a scuola della metà di ogni classe con la restante parte di studenti che continuerà con la didattica a distanza l'istituto cecchi ha 50 classi 30 al tecnico e 20 classi al professionale tutte le classi saranno a metà in presenza con un'articolazione che la prima settimana avranno tre giorni in presenza e due giorni a distanza e viceversa quindi la settimana successiva si alterneranno. Viste le problematiche legate ai problemi di connessione saremo molto attenti e vigili nel monitorare giorno per giorno le modalità di ricezione, quali criticità questo approccio didattico può presentare e nel caso la situazione crei dei problemi sia agli alunni a distanza sia agli alunni in presenza abbiamo pronto anche il piano con metà classi 25 classi in presenza nella totalità della classe e 25 classi a distanza. Noi entriamo col 50% di ogni classe cioè ogni classe viene divisa in due gruppi un gruppo ridotto è in presenza l'altro gruppo è in didattica a distanza. Tornazione dovrebbe essere settimanale settimanale in un primo momento poi decideranno gli studenti se farlo giornaliero oppure no gli studenti ovviamente in accordo con gli insegnanti con il nostro collegio di docenti vediamo siamo aperti a qualunque tipo di organizzazione logistica e didattica. Situazione diversa invece in altri istituti tra cui il liceo artistico e il Bramante Genga dove a rientrare in presenza saranno la metà delle classi della scuola con la totalità degli studenti che le compongono. Per l'istituto Mengaroni si prevede un rientro del 50% delle classi lavoreremo con le classi intere e chiaramente la possibilità di avere un numero minore di classi ci consentirà di utilizzare gli spazi più ampi e di articolare la classe in gruppi di lavoro durante le attività di laboratorio progettazione o discipline di carattere più pratico. Il collegio si è riunito ha scelto diciamo questa opzione tenuto conto della anche forte raccomandazione che la regione Marche fa infatti abbiamo proprio definito che il protocollo anti covid che questo istituto ha adottato verrà monitorato costantemente con proprio una condivisione delle regole con tutti i ragazzi. Lunedì rientreranno 16 classi si articoleranno su due plessi quindi un plesso per di cari plesso Mengaroni per cui anche stabili diversi entreranno il primo gruppo di classi lunedì martedì mercoledì l'altro gruppo giovedì venerdì e sabato. Nello stesso tempo stiamo cercando di potenziare al massimo la fibra e tutto ciò che è la connessione perché al momento in un plesso in particolare abbiamo alcuni aspetti tecnologici da perfezionare per consentirci eventualmente se non ci saranno più le condizioni per le classi intere di eventualmente articolare la classe a metà. La scelta prevalente è quella di far rientrare le classi intere utilizzando appunto essendo il numero delle classi ridotto utilizzando al massimo gli spazi più grandi a disposizione che abbiamo all'interno del nostro istituto. Alcune classi in realtà quattro classi al momento in questa settimana ecco rientreranno invece al 50 per cento proprio perché ecco sono classi abbastanza numerose e soprattutto anche con meno possibilità di sdoppiamento per il fatto che non ci sono magari gli insegnanti tecnico pratici non ci sono insegnanti di sostegno che possono effettuare una didattica piccoli gruppi eccetera. Le classi che rientreranno lunedì sono 21 su 39 e la tornazione viene effettuata su sei settimane così come c'è stato anche richiesto dall'ufficio scolastico regionale. Proprio per evitare che una classe magari venga sempre ad avere le stesse ore, le stesse materie o in dad o in presenza ecco facendo una tornazione sulle sei giornate praticamente ogni giorno della settimana viene occupato dalle diverse classi quindi c'è la possibilità insomma per tutti di avere lezioni in presenza e lezioni a distanza. E le Marche si preparano a vivere un nuovo fine settimana in zona arancione. Questa mattina però ospite di Paolo Pagnini a casa Rossini il vicepresidente della regione Marche Mirco Carloni ha affermato che i numeri della curva dei contagi della regione potrebbero portare le Marche nuovamente in zona gialla già a partire dalla prossima settimana in attesa ovviamente che arrivino le indicazioni ufficiali dal Governo insieme al Comitato Tecnico Scientifico. La situazione è questa, abbiamo cercato in tutti i modi con una grande operazione di screening e con un lavoro molto importante soprattutto anche su Pesaro di tenere il più possibile la curva dei contagi bassa e questo lavoro oggi potrebbe darci la possibilità effettivamente di tornare in zona gialla dalla prossima settimana. L'ufficialità di questa valutazione che purtroppo come sapete è una valutazione che fa da sola il Governo e soprattutto il Ministero della Salute in adesione all'idea che si è fatta il Comitato Tecnico Scientifico dovrebbe arrivare nella giornata di oggi quindi nella giornata di oggi dovremmo avere qual è l'indice su cui le Marche sono state misurate durante questo periodo. Ovviamente concorrono a creare questo indice non soltanto la capacità di contagio quindi quante persone rischiano il contagio se una può contagiarne più di una e quindi se si supera l'1% appunto si rischia di tornare in zona arancione o addirittura l'1,25% in zona rossa ma concorrono nella valutazione anche gli ospedali, posti letto, l'associazione dei focolai quindi noi crediamo che ci sarebbero tutte le condizioni visto che dovremmo essere rimasti sotto l'1% per tornare gialli e devo dire che abbiamo veramente lavorato tanto affinché si potesse tornare gialli così come si potesse tornare a scuola in presenza almeno per il 50% e 50% in DAD è una situazione molto difficile da gestire ma ce la stiamo mettendo tutta perché appunto la prevenzione che abbiamo fatto con lo screening e anche devo dire il risultato dei vaccini che ha un indice che è il più alto d'Italia, l'89,7% era l'altro ieri quindi stiamo cercando di dare il supporto alle politiche sanitarie e di sanità pubblica che il governo mette in campo E ora la pagina degli aggiornamenti per quanto riguarda il Covid sul nostro territorio il servizio sanità della regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.698 tamponi, 4.415 nel percorso nuove diagnosi di cui 2.663 nello screening con percorso antigenico e 2.283 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 9,9% I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 437 di cui 91 casi in provincia di Pesaro e Urbino 11 decessi notificati nella serata di ieri, 4 vittime risiedevano nella provincia pesarese E si è concluso al Palavitri di Montecchio il maxi screening che ha interessato i residenti di Vallefoglia, Montelabate, Monte Calvo in Foglia e Petriano quasi 4.300 il numero totale di tamponi effettuati sulla popolazione nelle giornate appunto dello screening con l'individuazione di 59 casi positivi E ora andiamo a Fano perché le forze di maggioranza sono in pressing sull'amministrazione regionale per la realizzazione della ciclovia a fianco dell'ex ferrovia Fano-Urbino Il Consiglio Comunale Fanese sta per approvare un ordine del giorno affinché non vadano persi i 4,5 milioni di euro già stanziati Il servizio è di Simone Celli Un collegamento tra i quartieri ma anche tra frazioni e comuni differenti Questo rappresenterebbe, tra le altre cose, la tanto sospirata ciclovia adiacente all'ex ferrovia Fano-Urbino Per cui esiste già un progetto e per cui sono già stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro Ma la Regione vuole rimettere mano alle carte Il tempo stringe e per questo la maggioranza consigliare del Comune di Fano ha deciso di mettere il turbo Attraverso un video promozionale, un ordine del giorno di prossima approvazione per spronare l'amministrazione regionale a fare presto e un vero e proprio appello ai cittadini Siamo qui nel tratto della ex ferrovia Fano-Urbino Per fare un appello a tutti i cittadini Per far sì che insistano con la Regione Per realizzare il progetto Per cui c'è già un finanziamento di 4,5 milioni di euro Che prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile A fianco dei binari della ex ferrovia È un progetto che è finanziato dall'Unione Europea E rischia di essere bloccato per una rivisitazione del progetto stesso Rivedere il progetto per distanziare ulteriormente la linea della ciclabile Come vorrebbe fare la Regione Rischia di farci perdere 4,5 milioni di euro Questo per realizzare un domani fra forse 20 anni, non si sa Una linea ferroviaria di cui ancora non sappiamo la realizzabilità Ma sappiamo i costi, sarebbero esorbitanti 130 milioni stimati Milione più, milione meno Ora, quello che noi chiediamo è Acceleriamo e realizziamo finalmente questa ciclabile La dovevamo realizzare già 20 anni fa Non lo abbiamo fatto, facciamolo adesso Quando un domani, se mai, si dovesse riuscire a realizzare una ferrovia E dovesse verificarsi che il rapporto costi-benefici sia adeguato Cosa tutta da verificare A quel punto, anche se dovessimo smantellare la ciclabile L'avremmo usata, avremmo avuto un territorio ricucito nella mobilità dolce È il momento di prendere una decisione Non possiamo farci scudo con dei pareri negativi ministeriali Perché sappiamo che questi pareri sono perfettamente superabili Basta appunto la volontà politica amministrativa di portarli avanti e di superarli Andiamo avanti, abbiamo 4,5 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione Che ci scadono a termine del 20 e 21 Ed è questo il momento di andare avanti e di non aspettare altro tempo Ci sono degli ostacoli tecnici? Sì, l'assessore alle infrastrutture della regione Marche Ha detto che esaminerà un percorso a 5 metri dal tracciato Non a 1,5 Come sappiamo ci sia già il progetto negli uffici della regione Ricominciare la progettazione richiederebbe altre risorse Se perderemmo le risorse che abbiamo attualmente I 4,5 milioni di cui parlavo prima E quindi non possiamo Perché questi due pareri che riguardano un'autostrada Mentre l'altro riguarda ferrovie dello Stato Sono dei pareri prettamente di tipo tecnico E appunto come dicevo prima Basta la volontà politica per poterli superare E andare avanti in questa opera di fondamentale importanza Un'opera del genere avrebbe anche dei vantaggi enormi anche a livello turistico Sì certamente a livello turistico è una cosa molto importante Perché sappiamo bene che la ciclovia adriatica Che diciamo passerà su tutta la parte del litorale Sarà praticamente una bellissima cosa Che porterà tanto turismo appunto delle due ruote Che adesso sta veramente una grandissima espansione Se pensiamo di poter avere anche questa possibilità Di poter addentrarci nell'entroterra della nostra bellissima zona Dove praticamente questa ferrovia Che adesso non viene più usata da ormai tantissimi anni Dal 1987 Diciamo che c'è la possibilità di poter fare in modo Che una pista ciclabile possa passare adiacente E l'amministrazione comunale di Cartoceto Ha provveduto a stanziare un contributo a compensazione totale Delle rette sostenute dalle famiglie Per alcuni dei servizi scolastici Si tratta nello specifico Della zeramento delle rette dei primi mesi dell'anno 2020 Relative al trasporto scolastico Al servizio di mensa di tutte le scuole dell'infanzia E della primaria del capoluogo E al centro per l'infanzia il nido dei paperi Soddisfazione espressa dal sindaco Enrico Rossi E dall'assessore alla pubblica istruzione ai servizi educativi Francesca Ciacci Un dovere etico, morale e civile Per salvaguardare le persone più deboli Sono le prime parole della lettera Che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Insieme all'assessore alla solidarietà Sara Mengucci Hanno inoltrato agli operatori delle strutture sociosanitarie Che ancora non hanno deciso di vaccinarsi Per ribadire l'importanza di un'azione di responsabilità Nei confronti delle persone più deboli A cento anni di distanza dalla fondazione Livorno del Partito Comunista d'Italia Ad opera di Antonio Gramsci Una delegazione composta da circa 15 rappresentanti Della sezione del Partito Comunista Italiano di Pesaro Si è incontrata ieri pomeriggio in piazzale Collenuccio Davanti al monumento ai caduti partigiani e civili Per ricordare lo storico evento E il personale della Capitaneria di Porto Della Guardia Costiera di Pesaro Si è reso protagonista ieri sera Del salvataggio di una tartaruga marina Dal peso di 60 kg Ritrovata sul litorale di Baia Flaminia L'animale pur non presentando ferite È stato trasportato presso Il centro tartarughe marine di Riccione Per gli accertamenti diagnostici veterinari E torna a centrare nel dibattito pubblico Il tema della riqualificazione del San Benedetto La ristrutturazione dell'ex manicomio Come sottolineato da Comune e Regione Potrebbe essere resa possibile Grazie alle risorse che verranno sbloccate Dal Recovery Plan e dal Bando Rigenerazione Urbana Usare le grandi opportunità Che arrivano dal Recovery Plan Per dare nuova vita a spazi e luoghi della città È con queste parole che il Vice Sindaco E Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini Ha parlato dell'attenzione Che nei prossimi mesi Potrebbe essere dedicata ad un importante progetto Di riqualificazione destinato al San Benedetto Da anni si discute degli importanti interventi Per l'ex manicomio di proprietà dell'Asur Anche se ad oggi Per l'ormai fatiscente struttura Alle porte del centro storico Nulla è cambiato Come sottolineato dal Vice Sindaco Le opportunità offerte dai fondi europei E dal Bando Decreto Rigenerazione Urbana Rappresentano l'occasione per parlare In maniera concreta Della nuova vita del San Benedetto Data anche l'elevata cifra delle risorse necessarie Per progettare la ristrutturazione dello stabile L'esigenza di trovare soluzioni per l'area abbandonata Arriva anche dalla voce del consigliere regionale Nicola Baiocchi Il quale, consultatosi con l'assessore all'edilizia pubblica regionale Stefano Aguzzi Ha poi individuato nella partecipazione delle marche Al bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Una delle possibili chiavi di svolta sulla questione Faremo tutto quello che nelle nostre possibilità È stato individuato questo bando importante Che può portare un contributo importante Alla nostra città Quindi io farò di tutto Cercherò di mettere quanto prima Attorno a un tavolo Come consigliere regionale Della provincia di Pesurbino In questo caso di Pesaro Il comune di Pesaro L'Asur I responsabili della regione L'assessore Aguzzi Che si occupa di questo progetto Per farsi di presentare quanto prima questa domanda E cercare di andare in porto Di portare in porto questo progetto molto importante Potrebbe essere molto utile Per una struttura che ormai decadimento da tantissimi anni Nonostante il grave momento di crisi Dettato per tutto il comparto sportivo dal Covid-19 La società Vis Sauro Nuoto Nonostante diverse difficoltà Non ha interrotto le sue attività Vediamo le interviste Vis Sauro Nuoto è un team Composto da diverse società Sul territorio marchigiano E la società madre Diciamo che poi conta Anche il maggior numero di atleti È appunto il Polo di Pesaro E le altre società facenti parte del team Hanno diciamo quasi nella totalità In gestione gli impianti Presso cui svolgono i propri allenamenti Cosa che invece non è per Vis Sauro Vis Sauro non ha un impianto qui a Pesaro In gestione Quindi usufruisce di spazi acqua Affittati da impianti comunali Gestiti da terzi E nonostante la stipula di un contratto Ad inizio stagione agonistica Come tutti gli anni si fa E con una dichiarazione Di disponibilità di spazi acqua Che la società oltretutto Deposita presso la Federazione Italiana Nuoto Per la propria filiazione Durante A seguito del decreto Della fine di ottobre Dopo un primo periodo di utilizzo Della vasca da 50 Perché l'affitto di Vis Sauro Nuoto È proprio riferito All'attività agonistica svolta In vasca da 50 E poco prima di Natale Ci siamo trovati A non avere più Quegli spazi pattuiti Di conseguenza Circa 90 atleti E le rispettive famiglie Perché sono ragazzi Per la maggior parte minorenni Quindi con l'impossibilità Di spostarsi in lunghezze Soprattutto in inverno Quella distanza Che hanno dovuto coprire Per raggiungere l'impianto Di Pian del Bruscolo Tavulia, Vallefoglia Che per fortuna Ci ha ospitato Nella totalità E quindi ecco Questo ha portato Nel periodo delle vacanze natalizie Una diciamo agitazione E dispiacere Da parte soprattutto Delle famiglie La problematica Si è acuita di più Nel momento in cui Sono riprese anche Le lezioni scolastiche Che logicamente Prendono poi Finite le vacanze natalizie Riprende l'attività lavorativa Di tutti E per lo meno Chi è che aveva avuto La possibilità di essere in ferie Quindi problema ancora maggiore E fortunatamente L'impianto Il centro federale Facchini di Pesaro Centro federale Della federazione italiana Pentatron Moderno Ha accolto La nostra richiesta Di spazi acqua E di conseguenza Abbiamo trasferito La totalità Dei nostri allenamenti Presso quell'impianto Vissauro Non si può fermare Perché I risultati Parlano chiaro La società Prima Nelle Marche A dicembre Abbiamo risalito Le classifiche Grazie alla Coppa Brema Dove ha gareggiato Insieme a noi Per la prima volta Anche l'olimpionico Sabbioni Non si possono fermare I grandi La categoria assoluta Ma non si possono fermare Anche tutti I piccoli Quindi esordienti A e B Perché La loro attività Va avanti Anche avranno le prime gare A gennaio E a febbraio Ad aprile Avremo anche Dei campionati italiani Assoluti Dove abbiamo diversi atleti Quindi assolutamente Non ci possiamo fermare Il nostro augurio È quello di poter tornare All'interno Della piscina Del Parco della Pace Dove abbiamo in essere Appunto ancora Un contratto E degli accordi stabiliti Ed è stato presentato Il progetto Inclusione e benessere Promosso insieme Ad altri partner Dall'associazione Ale Muraglia Il progetto Sostenuto dal comune Di Pesaro E finanziato Dalla regione Marche Prevede diverse attività Tra cui L'attivazione Di uno sportello Di ascolto psicologico Per prevenire E individuare Il disagio giovanile Si tratta Di un progetto Di un bando Promosso Dalle regione Marche A cui Ale Muraglia Ha partecipato Assieme ad altri partner E l'obiettivo È quello di Coinvolgere I soggetti Insomma più svantaggiati Della comunità Attraverso Una rete di partner E di collaborazioni Compreso le istituzioni Per migliorare Il benessere generale Della collettività E anche Delle famiglie In cui Vivono Queste persone Il progetto Si articola Attraverso Diverse Diverse Attività Ogni partner È responsabile Di alcune azioni Ci sono per esempio Uno sportello Di Di Psicologico Di supporto psicologico Abbiamo corsi Di ginnastica Per disabili Abbiamo corsi Di teatro Di ceramica Escursioni Camminate Rivolte A tutte le fasce Della popolazione Anche chi Ha problemi Di mobilità E disabilità Quindi Cerchiamo di aprire A una gran parte Della popolazione Soprattutto Le persone In difficoltà Compresi Giovani Perché coinvolgeremo Il gruppo sportivo Muraglia I ragazzi Della società Che Magari Necessino Di Sostegno Psicologico Per problemi Legati anche Allo studio Alle Attività Sportive Quindi ecco Questo è il nostro Intento È già uscita Una pagina Facebook Dove ci saranno Tutte le informazioni E il calendario Delle Attività Quindi In quella Sono numerose Attività Per cui Abbiamo Optato Per questi Canali Un po' Social In modo tale Che ci saranno Tutti i riferimenti Telefonici Indiristi E-mail E quant'altro E questa era davvero L'ultima notizia Del nostro Telegiornale Vi ricordo ora Gli appuntamenti Per la prima serata Di Rossini TV Questa sera Infatti A partire Dalle 21.15 Potrete vedere Lo spettacolo Della Evolution Dance Pesaro La Divina Commedia Questa sera Quindi su Rossini TV Alle 21.15 L'appuntamento Con l'informazione Su Rossini TV Poi torna puntuale Domani mattina Con una nuova edizione Della nostra Rassegna stampa Buongiorno Rossini In diretta In diretta Alle 7.20 Alla conduzione Ci sarà Marco Cadeddu Lo sport Sarà protagonista Anche questo sabato Su Rossini TV Seguiremo infatti Il match Che vede protagonista Little Service Pesaro Pesaro Contro il Todis Lido Di Ostia Sabato 23 gennaio A partire Dalle ore 18 In diretta Su Rossini TV Rimanete quindi Su Rossini TV Anche per questo Fine settimana E vi ringraziamo Di essere stati In nostra compagnia In questa edizione Del nostro telegiornale Augurandovi un buon Proseguimento Di serata Su Rossini TV Grazie a tutti